Abbiamo Pietro Tredici presente in studio Bella Pietro, bella Mr Monkey che è qua, bella tutta la tua cricca Hai parlato un po' di amici no? Un pochino dai, per farmi compagnia Una parte, è una cosa che mi piace Partirei da questo, cioè dal fatto che da quando hai iniziato Hai cercato comunque fin da subito di avere intorno i tuoi amici appresso Sì, con tutte le difficoltà del caso, chiaramente Del tipo? Tutti i problemi che si possono creare con un amico Un rapporto di lavoro con un amico Ogni tanto bisogna piegare la testa perché c'è qualcosa di più grande davanti Certo Quindi, per adesso sto spaccando Sì, ma non c'è nei ragazzi della vostra età una consapevolezza tale Che quello che state facendo realmente è già un lavoro? Sì, sai che ci stavo pensando ieri sera Che anche i rapper della scorsa generazione sono usciuti tutti A 25, 26, 30 anni Con comunque già giovani adulti Adesso è tutto minorenni È tutto piccolini Cioè io ho 21, 22 adesso È tutto più visibile anche no? Magari prima iniziava il rapper Poi l'amico diceva sì dai sei forte eccetera Però ora che si avvicinava a lui magari a livello lavorativo Ce ne voleva un po' no? Così era un po' di successo Ce ne c'è adesso anche con il fatto di internet che si arriva veramente più a diretto contatto Con molta più gente, molto più velocemente Anche l'amico dice cavoli però produco Oppure cavoli però mi piace la sua musica Ho capacità di comunicazione e faccio il manager Esatto, ci si prova poi Ci si prova certo Normalissima per ogni azienda Però anche quando si parla di un artista è bello che intorno ci sia degli amici Beh è un'azienda anche questa Cioè noi abbiamo aperto le nostre robe che adesso dobbiamo mettere in regola tutto Quindi è un'azienda a tutti effetti anche questa È un'azienda nata da poco però avete già riscosso Parlo al plurale va bene? Certo, devi parlare al plurale Parecchio successo perché mi sono ascoltato assurdo Il tuo primo album E devo farti complimenti Nel senso che Io ti devo ringraziare bro Posso essere definito una di quelle persone che Avendo 35 anni Ha davanti a sé un sacco di ragazzi che stanno uscendo Che sono usciti E quindi fai fatica O dedichi tutto il tuo giorno all'ascolto di tutti O se no appunto cosa faccio io? Chiedo consiglio Allora mi sono informato Ho chiesto a Tommaso Naccari Che lavora ai nostri social Ho chiesto a Ernia Sono andato a Arcomi Faccio oh Pietro 13 Cosa mi racconti? E tutti oh no guarda È tosto Ascoltati l'album Perché c'è un po' di questo Un po' di quello E su questa cosa volevo Volevo concentrarmi Cioè è vero che sull'album Si trovano più sonorità Che sicuramente vanno al di fuori della trap E che magari potremmo definire post trap? È vero È una bella ambizione Questa è la nostra ambizione Anche se poi i riferimenti Sono tutti al passato Cioè se tu ascolti il disco Da vecchio Come te Tu non sai che vuoi bro Cioè quella roba lì Cioè volendo ti ascoltavi Tormento Certo Volendo ti ascoltavi Snoop Il 93 Cioè adesso nel 2019 Io mi pompo con la roba lì Cioè io sono super Westside Dalla vecchia alla nuova scuola E quindi questo E poi devo dirti che sta spingendo di brucia Guarda Taiga in America Si Taiga in America era scomparso È vero E adesso primo in classifica Con un disco tutto west Secondo me è anche una roba super fresca È così È così da non posso dirlo io Però Cerchiamo di portare avanti Diciamo che il tentativo Ecco La pretesa Mi hai aperto anche Mr. Monkey No perché alla fine Non l'abbiamo ancora citato E salutato Però Mr. Monkey Bella bro Bella Per tutti quelli che non lo sanno Ovviamente Mr. Monkey È il mio compagno di viaggio E produttore E sono curioso appunto Di sapere Com'è che è nata La situazione Soprattutto Facciamo parlare lo speaker Allora La situazione è nata Che Cioè in realtà Totalmente a caso Noi ci siamo beccati Fuori da una serata E Parli vicino Ok Ci siamo inconosciuti Totalmente a caso Ci siamo beccati Fuori da una serata A Bologna Una serata trap E un mio amico Mi viene lì Mi fa Ah lui è il figlio di Gianni A me è proprio Ma questa è la prima cosa Che mi hanno detto Sicuramente questa qua Beh oh Purtroppo O per fortuna Sinceramente proprio Cioè è entrato da un orecchio E uscito dall'altro Non ero neanche nelle condizioni Che mi interessasse qualcosa E E niente Poi dopo Mi hanno detto Cioè ci siamo beccati in studio All'inizio è stato molto Direi naturale Cioè non avevamo neanche pretese Di una direzione Non avevamo niente Facciamo soltanto musica No le pretese c'erano Come no Le pretese c'erano Però non c'era una direzione Non avevamo Vediamo come va Sì è una cosa molto proviamo Cioè ci stiamo conoscendo qua Ci stiamo conoscendo in studio E vediamo come ci troviamo Statisticamente 20 anni era anche tutto il disco e tu è stato fatto tutto lì dentro certo, sì, mi immagino, i primi dischi sono anche i più belli a livello anche proprio di luoghi di registrazione ma volevi fare una band sempre adesso è un po' strano costare questi termini ma volevi fare una band di pop o volevi fare una band? no, assolutamente, io sono un chitarrista cioè sono nato come chitarrista e volevo suonare musica rock cioè mi piace proprio, ero su, era da tutt'altra parte indirizzato poi, cioè obiettivamente io con Sfera ho scoperto la trap, eccetera con Deda, volevi dire con Deda addirittura no, e niente, quindi sì, ho deciso, vabbè, ok, so la musica, so le basi è molto importante poi sapere la musica, no? perché poi penso che nel corso della tua crescita artistica tu possa inserire poi tutti quelli strubenti assolutamente, cioè io penso che sia una cosa più figa cioè mettere più musica possibile all'interno dei beat certo, ma in assurdo c'è, c'è già tanta musica e sonorità magari chitarre, so che vengono molto fuori ce ne sono, c'è pure una sola nell'auto cioè nell'auto c'è tutta una parte di chitarre improvvisata da me alla fine ma la svolta è proprio questa perché alla fine, cioè, avere uno avere un producer che non è legato solo all'hip hop molto spesso quando uno i producer hip hop sono anche molto spesso non musicisti bravi, grandi orecchi in grado di prendere il campione giusto però poi ti danno quell'influenza rap lì invece sono io che gliela do e gli dico oh, ascolta sta roba qua io voglio fare inizia tantissimo tutta la roba west, tutto il mondo west gliel'ho infilata in testa io e piano piano però dopo due o tre passi ci sono le bombe la riforma in altro modo che bomba, bello questa alchimia da quant'è che dura? due anni neanche secondo me due annetti a settembre di Bologna più o meno sì siamo delle due periferie opposte della città abitata ancora là? sì oh e parto da una cosa che inizialmente a me sembrava assurda e volevo parlarne con voi perché non lo nego abbiamo tanti anni di differenze quindi mi fa molto piacere capire anche come la pensate voi allora è successo qualche settimana fa che a Piacenza ne hanno parlato in tantissimi programmi radiofonici Don Pietro si è schierato contro i rapper durante un'omelia una messa si è schierato contro i rapper questi stronzi non devono diffondere un messaggio su droghe puttane eccetera io se li incontrassi in giro li piccherei quando mi hanno girato questa notizia adesso arrivo al punto ho detto ma io ne devo parlare di questa cosa cioè al giorno d'oggi i ragazzi che mi ascoltano 105 trap danno valore a uno che si sfoga così in maniera estrema su una cosa che non c'è da essere così estrema secondo me non dovremmo parlarne te lo dico perché tutta la gente che non lo sa se gliene parliamo lo sa lo viene a sapere adesso cioè come quando gira una voce su di uno la vuole smentire secondo me non deve smentirla se la smentisci tutta la gente che non lo sapeva inizia a girare la voce pure tra di loro capito cosa intendo oppure ho detto una roba troppo complicata no non l'ho capita vabbè non bisogna parlarne non bisogna dare importanza a questi anche perché sei più scemo di quello che pensi che sia scemo se poi gli dici tutti picchio hai capito e mi spiace no? cosa ti dici? ma secondo me cioè io non riuscirei mai a prendere seriamente una roba del genere cioè sono di quelle cose che magari sento dire e dico sì ok l'ha detto però ce l'hai soltanto detto voglio vedere poi capito se per strada vabbè anche qualcuno non vai a picchiare poi sei un prete cioè cosa vuol dire? no infatti è un messaggio stranissimo cosa vuol dire? un messaggio stranissimo di violenza pura soprattutto di chiusura mentale verso una cosa che ormai è nota cioè un'evoluzione musicale che noi in 105 trap anche se il nome è un po' stretto stiamo cercando di raccontare sì che poi magari sto prete si ascolta i Pink Floyd tutto voglioso che hanno scritto tutti i fatti è assurdo un po' come l'album di Pietro Tredici che è venuto qua con Mr. Monkey Dr. Monkey che è il suo produttore sono contento che li stiamo ascoltando un po' tutti i pezzi alla fine perché poi non te li ho chiesti i classici 5 pezzi perché ne ho buttati fuori altri i tuoi mi piacciono molti quello che mi piace di più ma forse quello che mi ha pigliato anche per il video bellissimo è tu non sei con noi bro che ascolteremo chillandoci durante la settimana però abbiamo delle cioè un featuring importante o comunque una traccia che mi porta a parlare anche del featuring è sempre un argomento comunque poi è l'unico featuring di cui se ne parla è l'unico però è interessante perché abbiamo scoperto Madame con 17 appena usciti e adesso tra poco entriamo in farabutto che è la tua traccia la traccia numero 1 2 3 4 la 5 che è l'unico featuring con Madame esatto allora introducici Madame Franceschina sei la numero 1 sei la rapper più forte d'Italia non la rapper femmina sei la rapper in generale più forte d'Italia e basta l'artista numero 1 c'è niente da fare siamo qua tutti a rincorrerti basta c'è poco da dire su Madame veramente la numero 1 infatti sta già volando sta già iniziando a prendere piede che ha uscito tre pezzi ho visto se lo merita se lo merita e io non potevo farmela scappare certo voi più o meno vi conoscevate già da prima sicuramente sì devo dirti che noi ci siamo conosciuti ma lei mi stava scrivendo cioè ci stiamo scrivendo insieme insieme senza niente e lei scriveva a me vabbè bella eravamo tutti in balotta però mi sa che il giorno in cui ci siamo conosciuti è uscito pure il pezzo o la volta dopo ma cosa succede mi ricordo che ho sentito Anna e ho detto oddio questa è troppo brava io ho sentito Anna e ho detto mia partita a caso di riproduzione tipo nel release radar di spotify penso l'ho trovata così mi sono proprio fermata e ho detto oddio che cos'è sta roba bellissimo freschissimo nuovissimo cos'è che scatta lì subito la contatto perché giustamente siamo dello stesso campo lavorativo io l'ho scritto subito su instagram io l'ho scritto grande spacchi ma lei era proprio all'inizio aveva pochissimi follower tipo 1600 follower aveva fatto sto pezzo quasi tutto oddio è proprio bellissimo una che canta sulla trap con delle sonorità che ok hai tempi trap quindi mi muovo con un tempo che mi gasa però allo stesso tempo musicalmente sei eccezionale è bellissimo è poliedica o sbaglio troppo è diversi flow si sa adattare se poi sentissi due tra i inediti i suoi che lo senti la poliedria come si dice infatti sono curioso 17 anni anche come scrive bravissimo secondo me la strofa di Assur è stata scritta di Farabutto è scritta in un quarto d'ora l'abbiamo lasciata in casa da solo un quarto d'ora sul mio terrazzo e è venuta giù con quella strofa lì con delle frasi che ho sti detto killer proprio killer killer e come mai l'unico featuring dell'album? perché era l'unico rapporto veramente d'amicizia stretto in questo periodo e anche l'unica artista che ritenevo valida cioè sono un botto di validi l'unica con cui avevo un rapporto che ritenevo valida che dicevo cazzo questa spacca non può non esserci c'è anche un immaginario che comunque magari simile sono un po' fuori entrambi dalle tematiche trappe entrambi cercano di evitare magari quei determinati cliché hanno un'immagine un po' comunque abbastanza pulita secondo me lei era molto giusta per niente costruita nessuna di due secondo me ci siamo trovati tutti anche come mood però ci siamo trovati che tipo di influenze potresti portare tu dottor Monkey nella vita di Pietro come sonore slash influenze sonore io secondo me cioè il lavoro che ho un po' sempre cercato di fare con lui cioè diciamo che lui è molto rap di impostazione sei un sacco rap quindi tantissima importanza per il testo e il suono delle parole mentre io non avendo mai ascoltato musica rap do molta più importanza al suono quindi penso che il connubio della cosa sia utile per entrambi certo cioè lui magari mi ha dato molte influenze proprio musicali dirmi anche ascoltati questa cosa cioè senti questa roba qua questo è bello questo magari no cioè ci confrontiamo in questo modo poi quelle sono anche preferenze artistiche preferenze artistiche quindi gusto però a livello magari dell'apporto che ho aderato io boh sì penso magari proprio una al punto di vista poco musicale cioè magari sì 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 le melodie magari alcune cose delle seconde voci lo fate mai in macchina quando andate che so a un concerto che c'è il ping pong di spotify che c'è un consiglio cioè uno passa una canzone e poi l'altro passa l'altra con l'outs che gira c'è la guerra c'è la guerra la guerra della maglia sì perché te vuoi fare sempre il dj bro te sempre però non vi lamentate troppo cioè comunque io non metto dei pezzi no bro no soprattutto metti un sacco di dj colchi io ti ascolto poco ci sta bro metto la musica tranquilla anche da macchina sentire sotto voi siete di quelli maraghi e quindi tutta la parte west dove ti ha introdotto Pietro alla fine ci stava anche sì bellissimo madonna la chiacchiera continua ascoltando un po' assurdo prima di quest'album è riuscito già però con diversi singoli no? è riuscito con quattro singoli sì che il primo ha avuto successo il primo che avevo fatto è andato subito forte ha riconosciuto la faccia ma ha per quello dici? ma no non solo per quello ha avuto diciamo inizio da girare la voce il pezzo è poi andato ma avete che so attuato delle logiche di marketing sì tipo sponsorizzazioni quelle robe lì sì o no c'è come 1600 follower su Instagram e l'ho scritto sulla mia pagina un botto di volta che avevo fatto hype che esce tra pochissimo il mio primo single e invece la tua parentela ti ha portato comunque un po' di hype in quel caso lì beh è chiaro ho portato il nome poi se la roba non fosse stata adesso dopo di me ne sono stati vari casi di nomi ah sì? non voglio fare nomi però certo sono stati vari casi di nomi figli di c'è la figlia di un politico però cioè se non va non va nel senso chiaro che ha dato la botta mi ricordo che in questi giorni ho detto per sfortuna o per fortuna questa cosa però alla fine se hai sotto una struttura un talento o comunque un desiderio di entrare in un mondo lavorativo che è sì dello stesso settore ma è di un altro genere comunque è una fortuna io la penso così chiaramente è solo una fortuna secondo me di mezzo c'è tutta quella parte che la puoi soffrire se sei una persona fragile magari che puoi soffrire l'odio la non comprensione della gente che proprio non vuole capire perché non accetta però bella nel senso lo sapevo cioè sono mica scemo lo sapevo che mi sarei andato incontro a sta cosa capirmi per chi non lo sapesse Pietro è figlio di Gianni Morandi quindi è una cosa che comunque cioè tu di chi sei figlio Mr. Monkey ah del signore Andrea Novi il torres che saluti il torres allora il torres come mai il torres sai che non ho idea ah c'è il capello lungo come Fernando è un torres biondone un bell'uomo il torres biondone dove ex biondone ex moro eh sì beh cosa ha detto per esempio torres del eh mio padre beh tu da dieci anni mi dicevi che hai iniziato a suonare a stare nella musica e lui è stato lui anche un po' introdurti in questo mondo no i miei genitori non c'entrano niente con la musica però ad essere sincero li ringrazio tantissimo perché hanno sempre supportato pienamente qualsiasi cosa cioè qualsiasi mia scelta loro mi hanno sempre supportato hanno cercato di aiutarti a sostenerti beh è importante questo messaggio il torres si faceva due volte a settimana Bologna Reggio Emilia Bologna Reggio Emilia è diventata niente niente però dai ci sono gli studi no alzo le mani ci sono anche degli studi di livello che magari non magari non c'era la situa capito sì è certo e poi giusto magari di uno di vent'anni non c'era ancora penso no quando tu avevi vent'anni cioè l'anno scorso cercavi un altro di vent'anni quindi magari ah sì non avevo tutte queste conoscenze vieni Pietro mi immagino invece un altro ipotetico location tipo vieni Pietro sì io tanti anni fa no ho registrato tu vabbè vieni che non ne capisco della tua musica esatto bravo ti immagino esattamente il genere a Bologna c'è uno studio così mega importante che ha registrato cioè che ci è andato Sting se non sbaglio a registrare un disco o qualche soggetto del livello della caratura di Sting a registrare un disco certo mica a pizze e fichi appunto però però sono non è un altro tipo di registrazione è un'altra storia è un'altra storia è un altro ambiente non c'è la stessa propositività verso il nuovo qui a Milano c'è qui a Milano c'è siamo contenti voi non avete idea di trasferirvi qua a Milano in realtà sì in realtà sì anche se Bologna arriva nei Bologna è una delle poche città forse l'unica città a un'ora da Milano di treno non ce n'è un'altra forse Torino l'unica città attaccata a Milano che in due ore vai e torni comunque molto easy molto tranquilla ci sta anche c'è un bel posto mi dispiace mollarlo però prima o poi bisogna avete dei bei ricordi di Bologna a livello di live che so i primi live sono stati fatti lì a Bologna il primo live l'abbiamo fatto a Bolo sì poi adesso in realtà me la voglio tenere me la voglio tenere per una bella data figa con tutti i bolognesi cioè fanno una roba veramente che mi vengano i brividi cioè vorrei proprio fare una bella data ottimo io in realtà mi sono fermato ho fatto una data e basta caro manager moco più uno grazie inseriamo mi autoinvito a Bologna con biglietto del treno se è possibile pagato chiaro quello no cioè all'interno di questo disco se uno dovesse pescare dei colori sei andato a riprendere diciamo dal passato ci sto pensando ci sto pensando allora sicuramente l'outro 13 il pezzo 13 è un pezzo cioè campione che tra l'altro c'è quella storia del campione che è allo stesso campione si mi hanno accusato di aver rubato il beat si in effetti lo dovrei farlo molto east molto new yorkese molto il matico che mi piace molto anche quella roba là e boh adesso su due piedi mi metti sta masano Mcmillie beh Mcmillie chiaro 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 nel lindo Snoop Dog raga no Snoop Dog molto però quella roba west appunto quel grande riferimento l'intro per esempio è un pezzo molto ispirato a Mcmillie cioè proprio quella roba super evocativa che droppa se ascolti assurdo dopo un minuto e mezzo droppa dopo quanto un minuto o tanto comunque si rispetta gli standard droppa la batteria proprio parte è vero su barre 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 che è una roba molto di Mcmillie che praticamente non praticamente il mio rapper preferito senza dubbio lui però è di Philadelphia però è troppo forte questa cosa non la sapevo questa particolare di Mcmillie ti ringrazio che me l'hai raccontata quando ci siamo conosciuti al Nameless forse sei partito con Assurdo certo l'intro del disco l'intro del disco l'intro anche del live che in effetti poi non avevo ancora scusato il disco e faccio a che parte il drop qua alla fine è vero come Mcmillie allora abbiamo parlato di live volevo capire un attimo com'era la vostra estate cioè adesso siamo già quasi a fine luglio però ad agosto non so come come avete progettato la cosa ok allora il 17 siamo a Mantova a luglio si parla di luglio il 17 a Mantova il 22 in Sardegna e a viandare adesso c'ho bisogno del personal io qua ho bisogno delle date personal vieni dentro a salutarci vieni qua a portarmi un po' di date dammi un po' di info il personal diamo un po' di info alla gente come si chiama il personal Fef non a Fef solo Fef bella Fef vai piazza un po' di date 17 luglio Mantova parla qua 22 luglio Sardegna 28 Giulia Nuova Food Rock Festival a Teramo Giulia Nuova a Teramo e 3 agosto Siracusa e basta e beh poi a settembre e poi a settembre poi sono e poi altre date in programmazione che siamo ancora costruendo non ti ricordi che al Nameless quando ci siamo conosciuti mi fai devi ascoltare gli FSK si cazzo devi ascoltare ti ricordi si grandi raga bella taxi bella 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 Greg sono andato su Instagram perché alla fine poi partiamo da lì e ho visto gli FSK Farmaci Scaduti Crew gang mi ricordo non so se si può dire ormai l'hai detto ma si 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 può dire clan comunque ah clan clan anche perché è un gruppo super old school che mi hai proposto tu io sono andato a ascoltarmi una canzone poi però ho detto arriva Pietro e quindi oltre che a parlare di assurdo del suo album andiamo a ascoltarci anche una canzone loro sei un grande quindi andiamo per ordine e poi ci ascolteremo anche i Farmaci Scaduti Crew clan che sembra un po' più da Zoddy 105 è questo nome qua si un pochino però alla fine è un altro gruppo che sta venendo fuori sono contento bella come state? bene alla grande bro alla grande poi sono gasato che mi hai ascoltato sono gasato mi fa piacere lo scambio di canzoni è pane soprattutto se tu o un ragazzo di 21 anni viene e mi dici ascolta questo tu potresti avere la presunzione di dire sto coglione qua sto figlio di Morandi capito invece è grande mi fa piacere che te ne accorgi dovrebbe diventare una cosa scontata penso cioè che è così io la sento così in radio quando consiglio una canzone tu non sai com'è bro è una roba che io consiglio con quelle enfasi mi chiedi troppo ascoltarla raga non l'ascolteremo oggi è tratta d'assurdo ma dovete troppo ascoltarla bella anzi facciamo non abbiamo salutato chi ha fatto il video com'è che si chiama? Enrico Rasso Enrico Rasso salutiamolo abbiamo l'ultima canzone non ci fotti se non sbaglio non ci fotti è una canzone un pochino più introspettiva direi all'interno dell'album oltre a questa canzone o comunque hai fatto un lavoro proprio di introspezione cioè è classico album che riascoltandolo sei riuscito a chiudere dei cerchi tuoi dei ragionamenti mentali? fino a un certo punto qualche cerchio sì dai mettiamolo così diciamo che ho anche affrontato temi che a parole non sono in grado di affrontare magari e li ho buttati sul testo che è un po' la mia forma di parlare di dire le cose che non sono in grado di dire quindi sì diciamo che poi questa traccia qui in particolare è quella che trovo più vicina a quello che voglio sia a livello musicale e qui devo ringraziare Monchi chiaramente che è la grande niente grazie brother sia a livello testuale ovviamente cioè a livello di quello che voglio dire quello che voglio far passare quindi sì diciamo che qualche cerchio è stato chiuso soprattutto con le ultime due o tre tracce le ultime due proprio nell'ordine nel disco forse anche la prima ha molto significato per me alcune di meno c'è all'interno dell'album a parte che sì in leggenda io pensavo fosse già qua all'interno dell'album la risposta che cazzo di contorto c'è all'interno dell'album il problema che hai dovuto affrontare appunto quello di far vedere che eri credibile al di là di questo pesante nome che c'è che parli dalla prossima intervista non ne parliamo più o se non parliamo in maniera costruttiva però sono curioso capito assurdo secondo me allora non ce n'è anche troppo pensato io ho pensato più a spaccare nel vero senso della parola cioè fidarmi alle mie capacità e dire io spacco non è che devo non è che devo andare a giustificarmi a darmi la credibilità attraverso un testo specifico è più la qualità della musica secondo me che deve parlare più che un singolo significato è normale che alcune robe le ho dette perché fanno parte della mia vita certo cioè è più che un tentativo di essere credibile che diciamo che lo è non lo è cioè è nella musica il tentativo è col tempo anche è più una quelle cose che ho detto sono più una necessità che avevo di dirle è capitato che hai vissuto la tua vita e quindi la racconti come ogni rapper racconta poi la sua strada una cosa che che notavo a parte la la somiglianza pazzesca a Logic te l'avranno detto un sacco di persone ma questo chiudiamo subito parentesi chiaro chiaro notavo che non non utilizzi non utilizzate o comunque nel vostro vocabolario c'è molto meno tutta quella parte cupa della trap che parla di sesso droga e puttane anche poi si fanno un botto di seghe tutti cioè soprattutto quelli quelli che si vede che non lo fanno dai boh ognuno deve essere se stesso no ognuno deve essere se stesso bro e la mia la mia grande ricerca è appunto quello che hai detto al primo giorno che ci siamo detti il post trap no è anche quello cioè io non saprei cioè dirsi adesso faccio questo perché sarà questo il post trap non esiste non ce l'hai nella testa è più un esercizio continuo di cercare di dire no io non vado verso quella quell'insieme lì che è una zona di comfort che è una zona che in realtà non è di comfort però è più comodo è più facile cercare i cliché invece bisogna crearne dei nuovi non si sa non saprei come però lo sto facendo sono sicuro che lo sto facendo penso che uscendo dalla propria zona di comfort si possa essere si è stimolati molto di più esatto e quindi alla fine poi a livello artistico si è più soddisfatti consiglio che se posso dare un consiglio quello che mi posso permettere di dire è quello che poi dicono tutti cioè non uscirai mai se fai il nuovo Sfera il nuovo DREF il nuovo Tony il nuovo quello che è non uscirai mai ci sono già cioè fai qualcosa di nuovo fate bene a ricordarlo però perché perché è bello se vince qualcun altro siamo felici è bello soprattutto appunto a livello artistico è proprio bello poi è soddisfacente penso come è andata so che siete stati avete fatto un giro un giro radiofonico com'è stata l'attenzione delle radio rispetto a un progetto rap quale assurdo ma non particolarmente forte siete unici voi sei unico Moku grazie bro ma c'è sono le varie interviste c'è più web forse che radio c'è più web ma c'è qualche radio qualcosina devo dirti che sulla radio inevitabilmente c'è un un target un pelo più avanti col tempo e indietro col passo vedete la possibilità di una radio di arrivare a un a un pubblico che magari è ancora più giovane di voi forse lo conoscete questo pubblico perciò magari come la radio potrebbe in qualche modo con l'immagine con l'immagine con il formato che ha è è molto complicato anche se secondo me la radio comunque è che si parla sempre che la radio muore 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 invece la radio c'è lo zoccolo duro perché ci sono speaker come me bro esatto no però sai che è bella difficile secondo me sai con l'immagine con l'immagine forte un bell'immaginario si può fare ma quello che state facendo secondo me adesso è molto molto buono ci avete preso piede un botto si stiamo seguendo parecchia roba urban sull'urban si perché alla fine poi guardiamo anche le varie classifiche vediamo che comunque poi è la musica che ascoltiamo e quindi alla fine quello che mi piace sempre definire 105 trap apre un po' le dimensioni della trap stessa ma va poi a prendere quello che poi è anche assurdo il tuo album cioè più sonorità e perciò più ricerca della musica che poi alla fine contraddistingue l'artista in sé è quello che cerca anche di evolversi di proporre musica nuova primo album di 13 Pietro non abbiamo detto tanto di te ma tanto lo trovate in giro le interviste le abbiamo detto le hai fatte anche sul web 13 so che è legato a questo gruppo di amici che abbiamo salutato il primo giorno cosa possiamo dire in chiusura abbiamo possiamo dire cosa possiamo dire raga ascoltate il disco se non l'avete ancora fatto visto che non l'avete ancora fatto lo so ad ascoltarvelo la roba è è di un'altra secondo me è un altro livello quindi magari non lo capirete neanche vi ci vorrà un annetto perché siete indietro con è brutto con quelli della mia generazione scusa no no quelli della tua generazione invece sono quelli che possono capirlo di più secondo me sì sì perché riescono a capire quello che c'è dietro secondo me cioè le ispirazioni che ci sono dietro tu ci arrivi un ragazzino magari no capito e poi se siete curiosi di sapere gli argomenti che sono all'interno di assurdo sono argomenti 13 Pietro esatto bella bro grazie Mr Monkey grazie a voi grazie a te a presto grazie a presto grazie mille siete qua Pietro 13 Mr Monkey a 105 trap yeah